Il cielo spegne le luci, i viali del Lido accendono le costellazioni elettriche della serata inaugurale. Aperta la caccia per Lello Bersani, sta battendo la più popolosa riserva di aneddoti sul cinema. Accompagniamo, mentre è possibile, Sofia Loren. Poi viene assediata, i leoni sono schierati. Brusasca consegna il leone d'oro alla produttrice danese del Verbo di Dreyer. Leone d'argento alla cicala di Samsono, sovietico. Idem a Il Grande Coltello, America. Idem a De Pirro, per le amiche di Antonioni. Medaglie della giuria ad Astruc per Mover Incontro e a Maselli per gli sbandati. Sei contento del successo che ha riscosso il tuo film alla mostra? Francamente molto contento. Ero già contento comunque che il film fosse stato accettato, anzi invitato dalla mostra di Venezia. Ma non aspettavo certamente il successo di pubblico che ho avuto ieri. Forse perché vedono i film molti più difetti di quelli che non il pubblico. Grazie. Grazie. Grazie.